Siamo a Brian, siamo a Fidana e con questa piaccia di Leonardo stiamo visitando la linea di San Domenico, a Praia si sostinge il 4 agosto, è una tradizione dal 1606 con la valuta dei domeniani che sono stati qui a Praia fino al 1840, questa manifestazione ha un significato, la mamma di San Domenico prima di partire sogno un cane con la feccola in bocca che ci ha un uomo, questo ha significato che il rascituro avrebbe portato in tutto il mondo la parola di Dio. Io sono nato con la Luminaga, i miei nonni mi hanno insegnato a preparare le candele fatte con l'oreo, con la cera e quindi questo vento fa parte della mia vita, ci sono oltre 40 anni che accendo la Luminaga dal 1 al 4 agosto e da allora poi quando mi sono chiesto di avere un'idea su cosa fare per il territorio estrariano ho detto riprendiamo la Luminaga e facciamo diventare un grande evento e quindi un significato storico, religioso, culturale e anche turistico. che è un'idea su cosa fare per il territorio estrariano. E' un'idea su cosa fare per il territorio estrariano.